La strada chiusa dove per consuetudine, consolidata da tempo, le automobili vengono parcheggiate dinanzi alle case. Le opere attuali dell'amministrazione sono volte, continua il comunicato dalla Casa Comunale di Colli, a delimitare gli spazi e regolamentare il parcheggio selvaggio di automobilisti poco rispettosi del codice della strada. La realizzazione delle strisce stradali orizzontali avviate nel pieno dell'estate saranno terminate nelle prossime settimane. Assicura l'amministrazione in collingo per creare i nuovi punti di sosta.